E' occupato. Il mio amico è andato a prendere altre fish e se ne vada. E' davvero suo amico? Tutti gli uomini che pagano sono miei amici. A volte penso che saresti capace di uccidere. Per oggi è tutto? No, non è tutto. Ti ho anticipato 20.000 euro e non ho visto niente. Mi avevi promesso una nuova commedia entro oggi o l'ho sognato. Mi sono buttato su un romanzo. La storia di una prostituta in una città di provincia. Incontra un tipo che perde la testa per lei. Ti sei scopato una prostituta? Il tipo si rende conto che lei è fredda, calcolatrice, bugiarda, egoista e decide di sfidarla al suo stesso gioco. Vive solo? Sì. Basta mentirmi, sono stufa. Smettila di prendermi per una scema. Il tipo fa di tutto per farla innamorare di lui. Eva è il suo vero nome? Mi dica a lei che importa. Mi intriga. Quel genere di donna non si innamora. È esattamente quello che penserà il pubblico. Riuscirà a incastrarla? O no? Sono venuto per ucciderti. Mi fai proprio ridere. Vuoi ancora sposarmi? gryza. Grazie a tutti.